Nel passato abbiamo progettato il presente, diventando giorno dopo giorno la prima televisione del meridione d'Italia. In migliaia hanno scelto la nostra stazione televisiva, la nostra M, e intesa come i migliori. Music TV Italia. Music TV Italia Television. Per pubblicizzare il tuo videoclip su questa rete. Info 0831 38 13 63. Cellulare 338 47 14 394. Vito Urgesi. Music TV Italia. Presente sul territorio nazionale, con sedi a Roma, Napoli, Ceglie e Martina Franca. Music Italia TV. Canale 163. Digitale terrestre. Music TV Italia Live. Un minuto per sintonizzarla. 24 ore per visionarla. Music Italia TV Live. La prima televisione del meridione d'Italia.